Con Nicole Fontana se ne va un pezzo grande della storia della moda non solo italiana ma mondiale. La minuta signora della moda si è spenta oggi. La stilista, ultima rimasta del trio conosciuto come Sorelle Fontana, avrebbe compiuto il prossimo novembre 102 anni. Era nata a Traversetolo e fin da dieci anni lavorava nella sartoria della madre con le sue due sorelle Zoe la più grande e Giovanna la più piccola. Insieme coltivavano la passione per ago e filo. Ma il paese dove vivevano era troppo piccolo per le loro ambizioni e così le tre sorelle si trasferirono a Roma dove tra le quattro mura di un appartamento in affitto cucivano fino a notte fonda abiti semplici per conoscenti. La loro bravura però si fa notare. I capi e le stoffe diventano sempre più preziosi perché destinati all'alta borghesia romana e ai tempi della seconda guerra mondiale fondano il loro atelier. Nella sede di via Liguria passa il bel mondo romano e non solo. tanto che Nicole, Zoe e Giovanna vengono scelte all'inizio degli anni 50 come stiliste da Linda Christian per confezionare l'abito per il suo matrimonio con Tyron Power. È il loro ingresso a Hollywood e nel jet set mondiale. Saranno abbigliate Fontana tra le altre Liz Taylor, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, John Collins, Soraya, Ava Gardner. La fama delle tre sorelle girerà il mondo grazie agli outfit studiati per Anita Ekberg nella Dolce Vita e riuscirà a strappare il primato dell'alta moda a Parigi. Nicole Fontana qualche anno fa lo ricordava affermando non sapeva una parola d'inglese ma per noi parlavano le collezioni, le americane ci amavano per la nostra sobrietà pratica e l'eleganza pacata. Nel 1994 la signora della moda aveva voluto dar vita alla fondazione Nicole Fontana un immenso archivio di tutte le creazioni create con le sorelle.